... 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 . puoi prendere l'attesa a destra a destra a destra sai che gli alberi parlano? sì parlano l'un con l'altro e parlano a te se li stai ad ascoltare tieni sempre bene a mente che ogni momento della tua vita può essere utile a te e agli altri e che per costruire un mondo migliore occorre essere umili pazienti e laboriosi mentre per distruggerlo può bastare il gesto insensato di un attimo credere di aver raggiunto un traguardo o fermarsi alla prima meta è un limite alla speranza e a tutte le ambizioni e ricordati sempre che la vita non sarà mai finita né dimenticata fino a quando avrà da indicare a qualcuno un sogno da poter realizzare se sarai attento a tutto ciò che accade nel mondo che ti circonda imparerai che nulla è impossibile per chi sceglie la via giusta i cittadini comuni sono trovati a fare televisioni su web perché l'hanno fatto? la RAI ad oggi non risponde più a quelle che sono le esigenze viva la RAI viva la RAI viva la RAI solo per noi proclama il dottore il dottore e il dottoressa del mio ultimo di anno nella professione di informazione per organi per mani o miei 110 110 e l'ode non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro credimi se puoi credimi se puoi credimi e vedrai non finirà mai ho desideri scritti in alto che volano ogni pensiero indipendente dal mio corpo credimi se puoi e credimi perché farei farei del male farei del male solo e ancora a me qui grandi spazi e poi noi cieli aperti che ormai c'è bisogno di vivere da qui vivimi vivimi senza paura che sia una vita o che sia un'ora non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto ti prego vivimi senza vergogna anche se hai tutto il mondo contro lascia l'apparenza e prendi il senso e ascolta quello che ho guidato il mondo contro l'apparenza e prendi il Grazie.